Il padre Giovanni Atturli, attuale provinciale della provincia St. Thomas, India. Io sono venuto con gli altri confratelli che sono capitolari, sono tre confratelli presenti come capitolari. Il primo è il padre Berghi Sonateca, che è il provinciale merito, che adesso è l'attore di casa di Cuneo Bellut. L'altro è il padre Jocelyn Chudan Baranghe, attore della comunità di Nuovi Luguri, e il padre Vincent Baranghe, che è il maestro, il maestro. Siamo contenti di essere insieme a voi per celebrare questo grande rendimento della congregazione, del sedicesimo capitolo generale, insieme a tutti con la speranza che questa speranza sarà un progresso, una crescita della congregazione e anche aiuterà la fraternità tra di noi, con i fratelli della stessa congregazione, quindi mi sono sempre Marelli. Grazie.